Buon appetito, un applauso! Adesso mi fanno sempre sparire i micro, ma lavoro non ha risposto da qualche parte, non mi ricordo solo. Signori, la parte magica, la parte talentuosa che c'è adesso, è una parte divertente, con dei ragazzi giovani, coloro che colorano i muri della città, abbiamo due writers d'escezione, signori, che li posso presentare, ma li avete già visti, signori, i CD-ROM! Sono quanti CD-ROM! Io dico, A, D, signori, i CD-ROM! E' finita! Ma non è voglia! Buon appetito! Prendi lo spreco e non c'è che cazzo! Qual è la stellina? Qual è la stellina? Qual è la stellina? Qual è la stellina, può imparare? Lascia perdere la stellina, siamoci in ritardo, bisogna fare il muro del parco, dai! Ah, che vuoi farlo? Ragazzini, vabbè, facciamo Walt Disney! Come un supereroe! I supereroe? Ma facciamo Walt Disney, no? Ma che Walt Disney? I supereroe! Sono ragazzina, hanno già 10 anni! Ma non c'erano 10 anni perché darei il cattivo esempio! Scusa, quale cattivo esempio? Qual è il cattivo esempio? E' un pato, fai 309 in autostrata! Ma che c'entra? Facciamo un cazzino! Il brazzo di ferro, rifuma la pipa, che è tutto attuato! Sì, e il super Mario Bros si mangia i funghi e vede i drag! Com'è con la roba di Walt Disney? Ok, se ce l'ho tutta appena carai, qua ci facciamo paperone dei paperoni! Paperone dei paperoni! Sì, paperone dei paperoni! Come hanno di colla... Sì, sì, sì! Poi ci facciamo le ronde dei paperoni! Sì, qua ci facciamo le ronde dei paperoni! Sì, qua ci facciamo le ronde dei paperoni! Qua ci facciamo le ronde dei paperoni! Eh, qua ci facciamo... Eh, non solo il caso! Qua ci facciamo le ronde dei paperoni! E collino del deposito! Qua ci facciamo un paperino! E qui, qui, qua, qua, qua! Paperone dei paperoni! Collino del deposito! E qui, qua, qua! Qui, qui! Qua, qua, qua! Qua, qua! Allora, qui... E' un grande baberò. Ognina deposito, quaperino... E' qui qui! E' di qua! No! Qui! Ognina deposito, quaperino... Qui qua... E' qui! Qui, qua, qui, Aperino, qua! Ma super bello! Oh, no, 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 no! Oh, no, no, no! Oh, eh! Ah, che dirà mai Israele? Poi come... Israele ho copiato mia madre, si è andato qualche giorno fa. Come sono arrivato gli ho fatto uno smile enorme, si sono incazzati... Ma dove eri? ...sul muro del pianto. Ma ci stava bene, l'altro. E' che invece ad Amsterdam... Ma lascia a perdere, vado a Natale, sai che ho bene, mi faccio la vacanza. Invece mi sono dovuto decorare tutte le vetrine per Natale. Un lavoro complicato? No, ma appuntanata. Oh, lì, in sera... Prendo, vado su casa della mia xp-pam, vado per recuperarci, faccio un pezzo solo a casa, non è arrivato un tipo buona spada. E' skydibur! Esatto. Oh, eh! Guarda che faccio bene un volante! Eh? Guarda come se ce l'ho avuto invisibile! C'è davanti agli occhi! Vecchia! C'è giù proprio pronti! Non mi fai sastellino! No, no! 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 Non lo so fare. Non lo so fare. Allora, il logo di pasta è semplice di preparerla, immaginatelo, è una roba di rifartela e... Lo scolo lo so fare. Allora, il logo di pasta è una scritta con il cerchio te l'è e... No, non lo so fare! Ti immagina? Può? Ma visto che devi immaginarlo, ma fammi vedere come si fa! Te la faccio vedere io. Sì, guarda, guarda, te la faccio in 3D. Sì, pure per il primo in settimana. Ma lo senti? Dai, vediamo lo sporone, va. Vediamo. Eh, non è per dire, eh. Ma non si capisce un cazzo. Ma di pazienza. Nooo! Mi spuro la parola! Ma che parla l'altra! No, Sulevski! Prova! Dai, fai fare questa stellina! Ma la stella, che è una stellina! No, facciamo... Cibi del mondo! Cibi del mondo? Sì! Ma così a caso? Sì! Ma fai faccio? Dai! Vai vedere così, dai! Cibi del mondo! Oh, che stai facendo? Un kebab! Fai la stellina! Fai la stellina! Fai la stellina! Oh! Però... La fai che riprende il colore dell'oro! Cioè non la fai così! Cioè che devi riprendere i colori dello stemma! Eh, ma? Eh, ha le sfumature di carminio, con il verminione, con il verminio, con le sfumature di oltremare, e il magenta, che chiude il segno all'esterno, con le sfumature anche di grigio africano e di verde, verde capitale dell'Africa, che è un verde particolare. confine o f年, perché vedi anche delle sfumature di... Cos'è quello? Dev'essere, secondo me, un amaranto metallizzato sfumatore. Chi è il tasto di la mia casa a fare quelle e belle e quelle... Eh era proprio così, unh idea, un punk. chang e non ti faccio einfaccare. Dino cavolo di battaglia. Ah, Robert De Niro. Ah, è un viso. Ma dire che Robert De Niro. E c'hai ragione. Perché uno è il viso di nero. Hai ragione, hai ragione. Passami il nero. Il nero, sì. Non ce l'ho. E il marrone scuro. Tanto mi serve giusto per fare la... Marrone scuro, ma non ce l'ho. Passami il viola. Viola, Viola o Viola Fucsia? Viola, Viola, non ce l'ho. Viola Fucsia. E me. Cosa c'è nella borsa? Panini. Passami il panino. Come l'uvo. Come l'uvo. Comodano e mozzarella? Non ce l'ho. Mortadella? Non ce l'ho. Prosciutto. Crudo o cotto? Cotto. Non ce l'ho. Crudo? Neguно. Come c'eriesti qua l'uvo. Poi te l'ho. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Anniela buona. Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Dicono. Non ce lhanno.